Questa è una classica crisi epilettica, può essere uguale sia nel cane che nel gatto, non ha senso tenere li stretti in questo modo, l'unica cosa potete eventualmente mettere sotto qualcosa la testa o se sbattono, allontanare gli ostacoli e allontanare gli altri animali di casa che si possono spaventare. Avete fatto benissimo invece a riprenderla perché per il neurologo sarà fondamentale il video della crisi epilettica, di tutta la crisi epilettica fino alla fase post-tictale che vediamo appunto poi terminare il video con la fase post-tictale. Se la crisi non si interrompe e dura più di 2-3 minuti bisogna caricare l'animale in crisi epilettica e portarlo dal veterinario più vicino perché la va interrotta farmacologicamente. Sopra i 3 minuti la crisi epilettica incomincia a diventare pericolosa per la vita del paziente. Di solito le crisi epilettiche sono autolimitanti e durano 1 massimo 2 minuti. Quindi è importante sangue freddo, potete filmarla, anzi fate bene a filmarla per il neurologo e cronometrarla. E se non si interrompe, subito di corso in pronto soccorso.